Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video, sono le 3.50 di notte, sono rimasto sveglio appositamente per fare questo provino Me lo ha consigliato Gala, quindi mi aspetto qualcosa di spettacolare Ma soprattutto è abbonato al 50%, quindi un applauso Ciris E tra l'altro Ciris è un eroe, che è rimasto sveglio insieme a me per fare il provino, grande Ciris Mi raccomando, dico trattino abusivo nello shop se volete supportarmi, se volete fare il provino E ci sono gli abbonamenti in descrizione per entrare nel discord, giocare insieme, fare il provino, addirittura il video come sta per fare questo ragazzo Quindi raga, GG tutto in descrizione, c'è anche il tasto abbonato da qualche parte Detto ciò Ciris io lo invito e niente, speriamo bene, speriamo ne valga la pena perché io sono più stunnato Non lo so, sono stunnatissimo, non riesco neanche a parlare, porca miseria Siamo in due fra, pure io non riesco a parlare, è troppo tardi Eh, è troppo tardi, sono le 4 praticamente È troppo tardi Porca miseria Modalità spettatore ragazzi, sono le 4 di notte, sono strastunnato ma speriamo sia per una buona causa Allora Vitto, c'è Galaga che mi ha parlato molto bene di te, conosciamoci, quanti anni hai? 28 dico 28 anni, mio fratello, l'età di Ciris, Ciris è l'età tua questa E ping? Quanto hai di ping? Adesso ne ho 17 17? In 0 Eh? Non è più mio fratello, è diventata mia zia No ragazzi, c'è rosico, gioco con 60 di ping Allora, aspettatevi più alte, con sto ping devi spaccare tutti Cioè, sto gioco è 90% ping, eh? 90% ping, non sto scherzando FPS? 144 144, va bene, va bene Oh, straonesto, straonesto Innanzitutto voglio ringraziarti per l'abbonamento al 50% Ciris, fai un applauso, eh? È un eroe Un applauso Per fare il video Ma tu mi segui da tanto? Eh, da un botto Come da un botto? Dimmi da quanto? Tu per giù Eh, ma nei tempi di Falcanzara Ah, del team, gli inizi del team G, eh, fra, è un onore Un OG, eh, diciamo, è un medio OG Posso farti un'altra domanda privata? Che lavoro fai per fare il provino alle 4 di notte? Ma che lavoro fai? Eh, faccio un lavoro abbastanza... Complicato, diciamo Complicato? In che senso? Diccelo Lo puoi dire? Con gli orari, con gli orari Non mi trovo, proprio con gli orari O lavoro alla CIA o fa il pappone, Ciris Secondo te che cosa fa? Eh, il lavoro è talmente segreto Ah, non lo so, non ce lo vuole dire Va bene, fa niente Ora parlerà il gioco Fammi vedere cosa sai fare 28 anni, i riflessi non sono al top, eh? 28 anni, zii Incominciano a calare i riflessi Trampone anche il pisello di esa rizza No, sto scherzando Quello, quello ancora... C'è tempo, c'è tempo Raga, se parla piano è perché è tardi, giustamente Ma vivi da solo? No, ando con la mia compagna La tua compagna? Quindi, ahhh Ahhh Va bene, ok, giustamente, giustamente E lei dorme a quest'ora? Eh, sono le 4 del mattino Ma che ne so, se fate... Eh, ma pure per me sono le 4 del mattino Pure per Ciris, pure per te Se sei sveglio, che ne so Non è che è un momento Vai, vai Mi va a pushare, vai Vai, va a pushare Fammi vedere Sei de' Napoli, eh? Ti sento Sei de' Napoli Sì Ecco Sghamato È il napoletano, dai Sei felice che avete vinto lo scudetto? Sì, io voglio E dai, eh E dai, hai festeggiato, fra Hai fatto qualche botto Hai sparato Sì, io voglio Quanto casino abbiamo fatto Azz Se ne scappa? Oh, c'è chi? Ok Tu non hai niente da lontano Le armi sono top Il marasma Fra Ciris Si immagina il marasma Con dieci de ping Il marasma Mamma mia, zì Mamma mia E la mitraglietta Gli entrano tutti i colpi Quello continua a scappare Ma che è che ve cambiate No, cosa fa quello? Ma che problemi c'ha? Ha i problemi che sta scappando Non vuole fare un fight da vicino Quindi provare a cecchinare Spero ragazzi Ma hai quattro o due notte Che si beccano Non lo so Avrò fatto duemila provini Ma nessuno è mai sceso in questa zona Zona abbastanza strana Diciamolo Oh Questo col combat Questo è arrivato cattivissimo Questo è arrivato cattivissimo col combat Guarda che non hai molti materiali Stava sotto Vitto Cosa mi combini? Dio, distrutto 44 Bello Ok Bello Allora, dico la verità Fra, io naturalmente sono sincero Missi un botto Missi un botto Ma com'è missi così tanto? Sì, fra, ma missi un botto No, è ok Allora Ciris No, non sono gli anni Allora, Ciris Non Allora No, Ciris Non se l'è giocata Se l'è giocata malissimo Le ha detto bene che ha vinto il fight Parliamoci chiaro Fra, te Non sapeva dove era nemico mai Ok, fra Non so, cattivo È la verità Devo fare il provino Sono sincero, no? Non capiva dove era nemico Ci ha preso hit Che non doveva prendere Ma soprattutto ha missato pari Quindi, cioè Per dirti, eh Non è che ti sto insultando Fra, ma dico la verità Non è Ciris La sua giocata Perché te Ciris No, fra Devi essere serio Devi pensare a player di livelli alti, no? Per il provino Per il team Non devi pensare Aci, ma pure te Giusto Non se l'è giocata Non se l'è giocata Ha vinto a fortuna Punto Vitto ti voglio più concentrato Ma hai dormito Com'è? Non so gli orari tuoi Ma No, che ho dormito Sì, ho tre ore di sonno Ah Ora si spiega tanta roba Ragazzi È stunnato dal sonno È stunnato dal sonno Ma questo è un po' Fra, mi si Ma? Fra te, ma Hai la tua sense? Non ci vedo Ma che cazzo Che stasera non ci vedo Cosa sta succedendo? Non lo so ragazzi Missa tantissimo Cioè, è bravo Ha le meccaniche Ma missa Questo è il problema Cioè, non ci vede Hai problemi di vista Non lo so Cosa è successo Sarà il sonno È il sonno È il sonno È il sonno Comunque sapete che mi dà fastidio Che parlo a rallentatore a quest'ora ragazzi Parlo veramente a rallentatore Di solito sono a manetta Parlo come Non lo so Eminem ha paura di dissarmi Come Ciris tu confermi In realtà tutti lo scrivono nei commenti Che Eminem ha paura di dissarmi Non riesco a parlare Se parlo veloce mi impiccio Oh, ma questo L'uomo delle nevi 140 Dai, non l'ho mai fatto 144 Mai fatto con il No, ma che è successo? È esponata lì sulla zona di Dell'O Non ci posso credere No Non ci voglio credere Ma cosa? Oh, ora la mira c'è Cosa è successo? Eh, era il bugger forte Sì, eh Quello si è incastrato nell'isola Fra Io mi sto per addormentare Oh, ma questo sei ricurato Ok Vai bro Eh Bello Bello GG Ragazzi io non faccio No, aspetta Mi ho fatto ridere perché è rimasto Beh, lasciamo perdere A quest'ora uno ride per le stronzate Si sa Raga, fatemi sapere nei commenti E ancora andate a letto l'estate Perché so che molti di voi hanno scuola Oppure è finita No, che il giorno Oggi è maggio No, ancora non è finita Avranno gli esami finali Comunque lo stanno pusciando Bro Stai messo bene, ricorda Hai parecchio materiale Che tra l'altro ora il limite è 500 Non si sa perché Siamo tornati indirlo nel tempo Vediamo come se la gioca Ammazza quanto è salito questo Però forse è meglio la spada Che il movimento tridimensionale Per queste cose, eh Perché per pusciare Almeno che Non ci vai Guarda Ma? Oddio Ma è lì vai, Fra È lui Ha deciso di uccidere il gigante 124 Bello Ma questo stava aspettando la sua morte Carino Carino Prendi la spada, Fra Ci sa Trovi il movimento tridimensionale Carino Carino, carino Con la spada ti muovi meglio Se non la prende Avrà preso tutto Ce l'abbiamo fatta Mamma mia, ragazzi Mamma mia Che sonno Che ho Il provino più assonnato Della storia Però meglio rimanere svegli Piuttosto che svegliarsi Rincoglioniti E quando mi sveglio Sono più rincoglionito Anche il mondo, Fra Cosa? Tutti su questi Tutta la roba di sull'isola Eh vabbè Spera spavano da Oh, ma ci stanno le cose d'oro, Fra Oddio Sì, ma Questo? Questo È stato bello Non ci ha capito niente Sì, questo non ci ha capito niente Questo stava guardando in alto Ma il fatto, ragazzi Ma quanto toglie lui? Quanto toglie? Ma il round? Che è il round? Che è il quarto round? Sì Tutte la roba di sull'isola Va bene Siete rimasti in undici Quante kill hai che non vedo? Eccolo qua Valide di marasma Prego 32 Eh no 32 Ho visto frizzato Ciris Il mio ping Cosa? Ho pure di notte Oddio Ragazzi Non capisco cosa stia succedendo Vi giuro Io vedo cose mistiche Oh me lo sto sognando dal sogno Ma sono sveglio Ciris sono sveglio Sì Aia L'ho dato una pizza Sì sono sveglio Confermo di essere sveglio Ci metto un secondo Ma perché non il zucco? Ok Non ora Dove farlo prima No Bitto Si vede che è il sonno Frati Dovevi fare il zucchetto A quest'ora Full Cambiavi box Due secondi Ti sei fatto una splash Ci hai preso Peccato Stavi giocando bene Peccato Molto molto bene Stavi giocando bene Peccato ragazzi Ma Purtroppo se uno non ha tempo Non ha tempo Fare i provini In queste condizioni È tosto Allora ragazzi Siamo in creative Perché diciamo È troppo strunnato Per giocare le pubbliche Ci sono troppe cose Nemici a destra Sinistra Spider-Man Movimento ridimensionale Spade È un bel casino Soprattutto quando uno non ha dormito Quindi In creative Hai detto che sei molto bravo Hai fatto tutti i livelli qui Quindi 253 livelli Praticamente tutti in creative 3 2 1 Let's go Parti quando ti pare Facci vedere qualche free build Con 0 de ping Poi beato lui Z Cioè 0 de ping Io ci metterei a filma Bellissimo Ma voglio Fammi qualche retake Vediamo se stai a fare qualche retake Allora Io sono sincero Fra eh Sarò sincero Mmm Ma male Ok Retake classici Fra Emozionato Allora Non straveloce Non straveloce Prendici un attimo la mano Fammi vedere che sei più veloce Ok Fammi qualche edit e basta Vai Fai qualche free build Qualche free edit Ma quello che ti pare Ok Vabbè Oh ci sta No no vabbè Ci sta Ci può stare Ci può stare Ceris Tu ci stai troppo Io non Allora Se Ceris aprirà mai un team Ragazzi 3.000 persone dentro al team 100% Perché sì Per tutti lui ci sta Cioè in realtà Per il team Non ci starebbe mai Una cosa del genere No Però per giocare Per fare cose insieme Sì ci sta Cioè il livello È decente Sono sincero Ci può stare Sa fare le cose Io mi sgranchisco Sgranchisco Io mi sgranchio Come cazzo se dice Come se dice Mi sgranchisco Io mi Sì Allora Io mi sgranchisco Così sarà brutto Dice così Granchisco Io mi stiracchio Ragazzi Perché Perché È meglio Che ho sonno Tra un po' Da letto Sì mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Se siete abbonati Entrate nel discord Che sta entrando parecchia gente Io vi ringrazio Parliamo Giochiamo Provini E video insieme Detto ciò Ora vitto Io me ne vado a letto Vai a letto anche te bro Almeno che tu non lavori A quest'ora Non lo so Ceris Vattene a letto Non ci stai capire più niente Te sento già Già sei ubriaco Io vorrei vedere ceris free build A quest'ora Impazzisco Impazzisco Vorrei pure io Ero curioso Grazie a tutti